Questo dispositivo vi aiuterà nel vostro mestiere? Sicuramente sì, è un dispositivo che ormai è su larga scala un po' in tutto il mondo e in Italia sta arrivando solo adesso, comunque da pochi anni. In Italia purtroppo le dotazioni che magari in altri paesi hanno già da decenni, noi siamo sempre un po' in ritardo, comunque accogliamo favorevolmente questa nuova dotazione. Ci sono state molte lungaggini burocratiche che finalmente vediamo un po' la luce di questa situazione e quindi speriamo che a breve, dopo aver fatto la formazione, queste bodycam riusciamo a portarle in servizio. Sicuramente è una doppia tutela sia per l'operatore che per il cittadino perché vanno a riprendere tutti gli interventi che vengono fatti. Lo dice la parola stessa in inglese, ovviamente body, corpo, cam, camera, che è una telecamera che voi avete addosso, ma è sempre in funzione? Siete voi che la fate partire, che la azionate? No, la bodycam rimane in stand-by fino a che l'operatore non si verifica una di quelle situazioni previste dal nostro regolamento per cui viene attivata. Una volta attivata ha un buffering che noi decidiamo quanto, che può essere di pochi secondi fino a un paio di minuti, dove pre-registra già l'evento. Quindi nel momento che succede un atto criminale, non lo so, un qualsiasi evento di polizia giudiziaria per cui si rende necessario l'utilizzo, viene attivata e lei ha già registrato l'evento. Per quello che riguarda invece il taser, come siamo messi? Allora, come era già passato all'orne della cronaca, il taser noi l'abbiamo già approvato nel nostro regolamento relativo all'armamento e alle dotazioni. Ora, siamo in attesa che l'amministrazione effettui l'acquisto, quindi ovviamente insieme all'acquisto ci sarà anche tutto il corso di formazione e il relativo periodo di sperimentazione che sono, ricordiamo, di circa sei mesi, alla fine del quale poi l'amministrazione di concordo con il comando deciderà se prolungare l'attività di questo strumento oppure no. Strumenti importanti perché voi intervenite anche nelle zone della Movida nel fine settimana, quindi vi danno una mano nel vostro mestiere. Otto sono un po' pochi però. Assolutamente sì, otto dispositivi sono insufficienti per il numero di operatori che sono dislocati sul territorio, tenendo conto del numero di pattuglie che di notte e di giorno sono al lavoro.